Alla presto! Mario! Lascia parte! Sì! Eh! Buongiorno! 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 Mi piaciuti la mezza! Dai! Eccolo qui! Atecchi dal primo palo! Atecchi dal primo palo! Occhio! Occhio da cose! Occhio! Occhio! Esci! E chi era questo? E' attaccato! E' attaccato! Bravo Mirko! Va bene Mirko! Bravissimo! Ma tranquilla! Vai Mirko! E' attaccato! E' attaccato! E' attaccato! E' attaccato! Dai Maurizio! Dai Maurizio! Bravo! Bravo! Dai! Eccolo! Fambino! Rani! Leora! E' attaccato! Hvala vo! Eccolo!